Ha aderito il 60% dei lavoratori delle categorie del privato della provincia di Udina allo sciopero nazionale di 4 ore, 8 per i metalmeccanici, indetto da Will e CGL, per riportare l'attenzione del governo sui temi della sicurezza sul posto di lavoro. Purtroppo ogni volta che facciamo una manifestazione coincide con qualche tragedia, l'ultima è stata purtroppo quella dell'altro giorno ma ormai è quotidiana, perciò una delle richieste che avanziamo al governo è di cambiare le politiche rispetto anche alla gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro. Uno dei temi principali è quello degli appalti, ad esempio dei subappalti. I manifestanti si sono divisi in due, una parte quelli della CGL alla sede della regione e un'altra, la Will, davanti alla prefettura, dove i segretari hanno incontrato il prefetto di Udine Domenico Lione. La patente appunto era una nostra richiesta, perciò c'è stata una risposta ma solo nel settore delle costruzioni, sugli altri settori mi pare che non ci sia intenzione di costituirla.